Good morning a tutti voi e buona giornata. Torniamo dopo la domenica di Ascensione al Vangelo di Giovanni. Siamo al capitolo 16, 29, versetto 29. Gli dicono i suoi discepoli, Ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto. Non hai bisogno che alcuno ti interroghi, perché crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù, adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo. Ecco, i discepoli sono convinti adesso di credere e fanno un atto di superbia. Di lì a poco, dice Gesù, di lì a poco succederà l'inferno. Di lì a poco andrete tutti via. Perché la fede, che è anche reale, autentica e chiaro, dei discepoli, verrà messa alla prova, verrà messa alla prova della croce. Come la nostra fede, la nostra vita viene messa alla prova dalle vicissitudini del vivere che ci feriscono. Ecco, ma abbiate coraggio, dice Gesù. Gesù non si spaventa di questo. sa che è dura, è dura. E bisogna continuare a provarci. Noi dobbiamo continuare ad approfondire la parola, a provare così, nelle nostre 24 ore. Non pensando di far chissà che, non pensando alla vita intera, ma pensando oggi. Oggi ci riprovo e speriamo di tenere alle prove di questa giornata. Abbiate coraggio, abbiate coraggio. Chiediamo al Signore un po' di coraggio nella nostra testimonianza. Un po' di coraggio per essere una testimonianza di oggi ancora di più, ecco, in questo tempo di pandemia che ci portiamo dietro da più di un anno. Un po' di pace anche noi, di trasmettere pace. Di trasmettere attraverso il nostro vivere, non paura, agitazione, distanza dall'altro essere umano, ma accoglienza, fraternità, condivisione, con le poche cose che viviamo ogni giorno. Le cose belle della giornata di ieri e dell'altro ieri sono tante, perché abbiamo vissuto di nuovo altri turni, sabato sera delle Cresime, ho visto un bel gruppo attento, presente, e delle prime comunioni, un gruppo molto vivo, molto allegro, vivace, e poi abbiamo vissuto un'esperienza che non avevo mai fatto, ecco, perché una bambina, Elena, della prima comunione, aveva chiesto di fare il battesimo, ecco, quindi ha fatto il battesimo e la prima comunione. È stato un bel momento, una bella emozione, vedere che, insomma, da piccoli, ma non troppo, come era lei, si può decidere, ecco, di scegliere Gesù. Questo è un dono grande per gli altri bimbi, per tutti noi adulti. Poi abbiamo continuato a lavorare con l'estate ragazzi, la preparazione, sale l'adrenalina, di vivere un'estate bellissima. E poi ancora una bella partita della domenica sera, la Belota, che vinca il migliore, si dice, poi ogni tanto non è che succede sempre, però... Ale, buona giornata a voi!